Quando sarò innalzato da terra attirerò tutti a me. Ci aveva lasciato con queste misteriose parole il brano del Vangelo di domenica scorsa. Abbiamo compreso che cosa significasse in realtà questo innalzamento. Era una profezia della sua crocifissione. Gesù morirà conficcato sulla croce su uno sperone roccioso, il Golgotha, appena fuori dalle mura di Gerusalemme, in modo che tutti in città potessero vederlo. Ma la profezia di Gesù assume anche un altro significato sconvolgente. Questo innalzamento non è solo un fatto fisico. Gesù vede nella sua morte pasquale la sua vera e propria esaltazione, l'esaltazione dell'amore e della misericordia di Dio. Il duro legno della croce è per Gesù il trono della sua gloria. La sua stessa morte contiene già la vittoria di Dio. Con la sua passione volontariamente accolta, Gesù trasforma la sua morte, che è l'atto in assoluto più orribile della storia dell'umanità nel trionfo dell'amore gratuito e disinteressato. Chi avrebbe mai immaginato che il Dio eterno e inaccessibile, pienamente beato in se stesso, avvolto della sua infinita perfezione, sarebbe arrivato fino al punto di umiliarsi fino a quel punto, spogliato sia della sua gloria divina che della sua dignità di persona umana, per essere uno di noi fino in fondo. Eppure di fronte a quella morte così terribilmente disumana, perfino il centurione, che era un pagano, dovrà confessare qualcosa di sconvolgente. Veramente quest'uomo era il figlio di Dio. La liturgia della Domenica delle Palme è forse la più complicata di tutto l'anno liturgico. Al di là del suo aspetto popolare, per cui tanta gente si affretta a raccattare il suo ramo di olivo da portare a casa, impressiona il contrasto tra la processione gioiosa e trionfale che fa memoria dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme e subito dopo la lunga, straziante lettura della sua passione. Liturgia complicata perché è complicata la vita, perché in teoria non conosciamo niente di più bello dell'amore, ma in pratica sappiamo che il vero amore, quello che rende felici, richiede il sacrificio della vita. Entriamo nei giorni della Settimana Santa. Dedichiamoli a noi stessi, dedicandoli al Signore. Partecipiamo ai riti del triduo pasquale, riti che richiedono impegno, preparazione e tempo. È il miglior regalo che possiamo fare a noi stessi, perché tutto quello che noi possiamo sperare di vero e di buono per questa vita e per quell'altra, ha nei misteri di questa settimana il suo fondamento.